Penso che sia molto interessante. Non è potuta venire, comunque anche a me dispiace, ma comunque grazie per aver organizzato questo collegamento e quindi mi ha dato la possibilità di darvi questi dati, i nostri dati. Vorrei fare delle domande, è molto importante, io sono qui insieme con il professore Annunziata che insegna neurologia a Napoli, alla Federico II, e Lucy Greed, credo che vi siete già incontrati. Ciao Lucy! Quindi vorrei aprire il dibattito dicendo che il concetto è molto interessante, cioè che insieme alla ricerca dei nuovi farmaci è molto interessante anche cercare di lavorare in modo da usare ciò che è già disponibile, però farli funzionare meglio, migliorarne l'efficacia. E quindi la mia domanda è semplice, io sono un medico, a che punto le lacrida le è vicino agli altri agenti? Qual è il livello di applicazione clinica attualmente? Sfortunatamente la lacrida è stata sviluppata a GSK e ha naturalmente superato per i tumori cerebrali il trial fase 1, non è stata ancora sviluppata. Una delle ragioni principali è che risulta che l'elacrida non è molto biodisponibile, quindi passare dai topolini a specie superiori e poi agli umani non è facile. Quello che stiamo cercando di fare adesso è trovare una formulazione diversa di elacrida che permette di aumentarne la biodisponibilità e poi passare a dei trial clinici veri e propri, poiché il riluzolo si usa già per la SLA e poiché l'elacrida è già arrivato alla fase 1 di trial e si è dimostrata sicura. Se possiamo applicare un'altra formulazione di elacrida a pazienti affetti dalla SLA potremmo forse migliorare la situazione, ma vi sono altri tipi di elacrida, cioè elacrida in forma di composti già sul mercato, quindi la possibilità di rallentare la progressione utilizzando alcuni di questi composti nel topo prima e poi vedere se possono funzionare e quindi essere utilizzati nei trial umani. Come è stato fatto per l'eluzolo? Certo sarebbe meglio se l'elacrida fosse biodisponibile, ma per ora la formulazione che abbiamo non lo è, non lo è abbastanza, dobbiamo trovarne un'altra. Bene, Lucy, vorrei fare un commento. Prima cosa grazie per la sua bellissima presentazione, veramente molto interessante e ben presentata, un lavoro incredibile nei dettagli e nella logica della spiegazione, tutto risulta incredibile. Lei è stata molto brava e vorrei sottolineare l'idea che forse potremmo guardare altre molecole che sono state già utilizzate in maniera però fallimentare per capire se si legano alla PGP. Fare questi esperimenti e quindi vedere se è possibile trattare l'asla con nuove molecole però che nascono dalle vecchie che nel passato non sono riuscite a produrre risultati. In particolare, per esempio, pensiamo a grosse aziende farmaceutiche che hanno in modo di studiare a fondo queste molecole. A che punto cambiano le concentrazioni, per esempio, di queste molecole prima di fare un nuovo trial? È una domanda interessante perché certamente a noi interessa quello che lei ha fatto, anche perché sfrutta risorse che non sono abbondanti, certamente sono d'accordo con lei e apprezzo il suo commento. Non riguarda solo il riluzolo ma certo il concetto applicabile a rivisitazioni per così dire di altri farmaci che forse fallirono non perché sbagliati ma perché non sono stati ben concepiti e per il futuro per nuovi farmaci più efficaci in assoluto. E poi studiando i tessuti, le risposte al riluzolo e altri dati potremmo avere forse con un consorzio in collaborazione con il NILS potremmo fare quello che lei dice, cioè cercare di capire se in retrospettiva utilizzando soprattutto dei database disponibili, se possiamo capire se è possibile dividere i pazienti in quelli che rispondono ai farmaci e quelli che invece non rispondono. Guardando appunto come il riluzolo in passato ha funzionato in varie concentrazioni facendo uno studio retrospettico ovviamente, considerando lo studio del riluzolo nelle varie formulazioni cercheremo di farlo, questo concetto è importante che vale certamente per altre malattie cioè di pazienti, di vissi, di quelli che sono sensibili al farmaco e quelli che non sono sensibili al farmaco sulla base dei livelli di trasportatori dei farmaci stessi. Per alcune malattie come l'epilessia vi sono pazienti che hanno SNPs nel PGP e nel BCRP con un aumento dei livelli di espressione, quindi è quello che cerchiamo di fare perché abbiamo i tessuti, abbiamo campioni dei pazienti e possiamo ritornare a pazienti che già hanno avuto trattamento con riluzolo per dividere le nuove categorie. Bene, non so se ci sono altre domande da parte dell'uditorio. Microfoni per favore. Bene, è una presentazione eccezionale, grazie, grazie, grazie. Va bene, come va? Io ho una domanda specifica. Abbiamo visto che ci sono persone che ritengono che il Criacassone e il Saprezolo potrebbero essere efficaci e la mia domanda è per questi due composti perché se abbiamo dei composti che sono sicuri o perlomeno relativamente sicuri da provare allora potremmo arrivare più facilmente ad un uso clinico di questi prodotti. non so se hai guardato questi prodotti che ho appena menzionato, no, no, non l'ho fatto però ovviamente ci sono tanti farmaci per cui possiamo fare dei test e questo non so se sono PGP, BCRP, altri siti trasportatori che rendono più facile il tutto creando i substrati più giusti, ma certo la Biogen può fare dei controlli. Io vi ho fatto vedere una diapositiva di un lavoro fatto dalla Biogen per vedere se il riluzolo diminuisce in concentrazione nel tempo nei topini è parte degli interessi della Biogen, non so del triaxone, il triaxone è un substrato credo della PGP, però devo fare un controllo più a fondo, ma certamente ci può essere un substrato adeguato sia per la PGP che la BCRP. Sappiamo che è importante il ruolo di questi trasportatori, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cioè capire, dividere i pazienti in quelli che sono responsivi e quelli che non rispondono al farmaco, solo col Dextra Trial abbiamo combinato tutti questi pazienti e sappiamo che sono i pazienti che pensavano che funzionasse o non funzionasse perché vi sono appunto delle differenze nella risposta al farmaco, bisogna controllare e fare una differenza fra quelli che rispondono e quelli che non rispondono quelli sensibili e quelli non sensibili. Io penso che forse è possibile, e lo sta facendo la Biogen per capire in retrospettiva quelli che hanno risposto meglio tra i pazienti e i pazienti che non avevano alti livelli dei trasportatori in questione. Se questi dati sono disponibili, se raccolgono i campioni adeguati di questi pazienti, allora questo studio sarà molto interessante, anche piuttosto facile da fare. Bene, io ho una raccolta di prelievi che possono essere utili, ma non so, non abbiamo ancora accesso al pubblico per questi dati. Comunque c'è un'altra domanda, mi sembra. La dottoressa Passinelli, bene, congratulazioni per la sua presentazione così interessante, però ho delle domande molto brevi. Una che fa, cioè lei ha dimostrato un'aumentata espressione di questi due trasportatori di efflusso, ma può farci un'ipotesi? Qual è il meccanismo molecolare che funziona nei modelli animali o nei pazienti? Che comporta questa espressione aumentata? E la seconda domanda, lei ci ha mostrato dei modelli animali e vediamo in questi modelli che sia il rulozolo che l'elacridar o i due insieme aumentano la curva di sopravvivenza verso destra, la rialzano, l'alzano verso destra. È un effetto però piccolo considerando che il rilozolo causa solo un piccolo aumento nella sopravvivenza, anche se efficace. Pensa che questo approccio può essere saturato, cioè se blocchiamo questo sistema di efflusso in maniera efficiente non si riesce ad andare al di là di questo risultato, avere una risposta terapeutica maggiore a un livello più alto. Per quanto riguarda la prima domanda, lei mi chiede se sappiamo qual è il meccanismo attraverso il quale questi trasportatori di efflusso, dei farmaci aumentano durante la progressione. Se non sbaglio, questa è la prima domanda. Quindi noi lavoriamo su questo punto, cioè noi crediamo che questo è dovuto soprattutto agli astrociti e probabilmente al rilascio di alcuni fattori che convergono nel pathway NFKB regolando l'espressione e l'attività di questi trasportatori. Abbiamo fatto naturalmente uno studio dei dati in vitro, sono dati in vitro come vi ho mostrato e ve ne ho mostrati solo alcuni, però stiamo anche studiando in collaborazione con altri colleghi in vivo, dati in vivo per vedere se c'è la stessa attivazione degli trasportatori di efflusso, cioè della PGP-BCRP attraverso un pathway pro-infarmatorio. Di solito questo è dovuto a un breakdown della barriera ematoencefalica che è una cosa in fondo controintuitiva perché questa barriera quando è danneggiata durante la malattia, lo sappiamo come accade con la SLA, dobbiamo controbilanciare questo effetto con una sovraregolazione, con un'appregolazione della seconda barriera, potremmo dire, che va al di là, che impedisce il leakage e cerca di proteggere tutto quello che sono i prodotti, gli agenti tossici che penetrano questa barriera. Certo è vero, quella seconda domanda è giusta, l'effetto del riluzolo nei topini crea una maggiore sopravvivenza, un miglioramento della sopravvivenza, ma come lei ricorderà da quello che ho detto, noi trattiamo sin dall'insorgenza della malattia con una concentrazione di elacridar all'insorgenza della malattia, quindi subito, se vediamo gli effetti, cioè bloccare con una concentrazione di elacridar, quindi per studiare la farmacodinamica e la farmacocinetica del riluzolo, abbiamo un rallentamento della progressione della malattia in questi topini con questa malattia così aggressiva, il 16% del rallentamento è un buon dato, un effetto notevole, il più grosso che abbiamo visto in questi topini, perché? Perché di solito sono trattati prima dei sintomi, non all'insorgenza della malattia, non al centesimo giorno quando veramente i topini sono molto malati. In termini di miglioramento ulteriore, grazie all'effetto del riluzolo nei pazienti, non so che dire, non so se sarà possibile e credo che lo sarà per quanto riguarda il fatto che questo ci ha portato a fare un test del riluzolo, ci sono dei test, dati clinici che mostrano che in realtà nel primo anno di trattamento, probabilmente quando la farmacoresistenza è bassa, l'effetto del riluzolo è molto significativo. Il nostro intento non è tanto migliorare il riluzolo, ma utilizzare il riluzolo come biomarcatore per migliorare la penetrazione dei farmaci, quindi se saremo in grado o meno di avere effetti superiori del riluzolo, questo ovviamente è qualcosa da vedere, però ovviamente dovremo per altri farmaci sviluppati in futuro lavorare sull'individuazione della giusta dose e degli inibitori giusti dei trasportatori in questione e quindi fare un'attivazione completa dei trasportatori che, come lei ha detto, sono difficili da saturare. Perché? Perché sono energy dependent, dipendono dall'energia, quindi dobbiamo individuare quali sono i trasportatori, gli inibitori dei trasportatori più selettivi e più specifici e le dosi giuste. Dobbiamo andare avanti adesso, Piera, sfortunatamente è tardi, vorremmo discutere a lungo certamente, però...